Buongiorno a tutti amici di Cartelino Rosa e benvenuti a una nuova puntata del nostro podcast ma anche di un nostro nuovo video sul nostro canale YouTube perché siamo un po' in contemporanea siamo sia a registrare per il nostro podcast appunto sia per il nostro canale a cui invito ovviamente di iscrivervi e per seguirci e rimanere aggiornati su tutte le unità del mondo del calcio femminile poi per questo c'è anche le nostre pagine Facebook, Instagram, il nostro canale Telegram e Twitter insomma siamo un po' ovunque ma oggi siamo qui per parlare di Serie B femminile dopo il video uscito ieri riguardo alla massima categoria, la Serie A ora bisogna parlare anche un po' di cadetteria perché comunque è un campionato bellissimo quello che si sta svolgendo in Serie B quest'anno, molto molto equilibrato con una squadra forse che sembra avere qualcosa in più che sta facendo prove di fuga ma adesso ne parliamo subito perché iniziamo proprio dal Pomigliano che vince ancora, vince 1-0 col gol di Romina Pinna contro il Cesena una vittoria importante per confermare l'ottimo periodo della squadra che comunque veniva da un pareggio rosicchiato col Vicenza ma adesso si torna a vincere e si vola anche in classifica perché in questo momento il Pomigliano ha 30 punti e primo in classifica con anche una partita in meno, quella col Tavagnacco ancora da recuperare tra l'altro quindi uno scondo diretto molto importante che magari potrebbe smuovere un po' la classifica in futuro appena si recupererà la gara Pomigliano che dunque vince 1-0 contro il Cesena che adesso sta un attimo faticando prima era addirittura al terzo posto qualche giornata fa poi con anche qualche recupero giocato di mezzo è scesa al sesto posto ma è comunque non lontanissima dal secondo, solo i 5 punti la separano dalle zone della promozione dove adesso appunto c'è il Como al secondo posto con 26 punti Como che però ancora una volta non riesce a vincere un altro pareggio 2-2 con la Roma a calcio femminile tra l'altro un 2-2 con le Lombarde che hanno dovuto inseguire le giallorosse che adesso finalmente hanno trovato un po' di continuità dopo essere state ferme per mesi e mesi a causa di un brutto focolaio di Covid-19 che ha colpito il club ora finalmente stanno trovando un po' di continuità e anche qualche ottimo risultato per esempio questo pareggio con il Como che comunque fin dall'inizio della stagione era una delle grandi favorite per la promozione di categoria Roma CF che va avanti 2-0 grazie alla doppietta di Glaser, di Bomber Glaser e il Como che si trova quindi in seguire a corso di distanze sempre nel primo tempo la solita Alessia Rognoni che trova l'ottavo gol stagionale per lei e poi ci pensa il neacquisto Greta Di Luzio a pareggiare un po' i conti nella ripresa 2-2 quindi probabilmente un pareggio più utile la Roma a calcio femminile impegnata in una lotta a saldezza che un Como che comunque vuole assolutamente la promozione in serie ma ora il momento si trova anche secondo ma dietro stanno tutte arrivando tra cui il Ravenna che ha iniziato una striscia di vittorie importantissima tra cui la vittoria nel derby col Cesena la vittoria di misura contro la Lazio e adesso arriva anche la vittoria per 2-0 contro il Chievo Verona un'altra vittoria importante contro comunque un Chievo che è una squadra che si sta facendo qualche difficoltà in questo campionato ma in realtà ha una squadra forte adesso è arrivata anche il nuovo mister Michele Ardito questa è solo la seconda partita per lui con questa squadra quindi bisogna ancora mettere a posto varie cose che si trovano magari già in settimana ma parliamo soprattutto della vittoria del Ravenna che appunto continua a vincere e sale al terzo posto ha solo un punto dal Como ma con una partita in meno quindi virtualmente il Ravenna potrebbe essere addirittura sopra le Lombarde quindi una squadra che anche lei sin dall'inizio si è detto avrebbe lottato per la promozione ha avuto un periodo un attimo di calo in cui ha avuto qualche risultato negativo consecutivo ma adesso si è ripreso con questa striscia di vittorie che l'ha portata appunto al terzo posto infatti come abbiamo detto è un campionato molto equilibrato la classifica è molto molto corta e bastano due o tre vittorie di fila ritrovarti dalla parte destra della classifica a parte alta di quella a sinistra vince anche il Tavagnacco dopo un mese che era assente dai campi le Friulane tornano a giocare questa volta in trasferta con il Ponte d'Era e riescono a ottenere anche una vittoria di misura grazie al gol di Caterina Ferin basta e avanza per il Tavagnacco per conclusare tre punti importanti di sorpassare la Lazio e comunque andare a quota 23 punti meno tre dal Como Secondo ma con ben tre partite ancora da recuperare per il Tavagnacco anche se non sono partite semplici affatto abbiamo già detto che c'è un recupero per esempio contro il Pomigliano e tra l'altro se non sbaglio anche il secondo con uno con la Lazio quindi Tavagnacco che vince ha il quarto posto momentaneamente in classifica ed è molto importante per la squadra della retrocessa l'anno scorso della Serie A secondo me anche un po' immeritatamente che vuole tornare il prima possibile a giocarsela nella massima categoria tra l'altro prossima giornata affronterà il Brescia ci sarà questa sfida tra Tavagnacco e Brescia che magari per i più nostalgici farà scendere una lacrimuccia perché erano due club che prima lottavano per conquistare il campionato il Coppa Italia la Supercoppa si sfidavano e invece adesso si stanno lottando si incontreranno in Serie B Brescia tra l'altro piccola Parenzi non ha giocato questo weekend come il Perugia perché la loro sfida è stata rinviata a causa appunto si pensa di qualche caso ripositoriale al Covid nelle file proprio delle grifoncelle quindi vittoria del Tavagnacco e vittoria anche dell'Orobi che in trasferta con il Vicenza 2-1 Vicenza che va pure in vantaggio con Yeboa con Bomber Yeboa ma pareggia Sandrona Zygic come soprannata dai tifosi di Sandrona che dopo le scorse stagioni al Milan arrivata quest'anno all'Orobi che inserisce per mettersi un po' in gioco fascia da capitano e Bomber assoluta se non sbaglio già il sesto gol che sigla in questa stagione tra l'altro solo gol pesanti oggi questo weekend scusate il gol del pareggio contro il Vicenza anche se poi la vittoria arriverà nei minuti finali con un autogol da parte di una giocatrice bianco-rossa quindi tre punti importantissimi per l'Orobi che comunque nonostante sia una retrocessa dalla serie A quest'anno si sta giocando la salvezza in serie B tocca quota 18 punti più tre dalla zona rossa occupata in questo momento da Chievo Pontedera Roma calcio femminile Perugia quindi comunque un'Orobi che vince uno sconto diretto alla fine con il Vicenza che stava facendo molto bene abbiamo già parlato di come ha fermato per esempio il Como sul 3 a 3 e qui e infine infine arriviamo poi alla squadra che forse tutti aspettavate ovvero la Lazio di Carolina Morace prima sulla panchina di Carolina anche se arrivata giusto quattro giorni prima della gara quindi non è che è riuscita ancora a improntare il suo gioco nella squadra bianco-celeste che comunque va in vantaggio con la solita Martin capocannieri assoluta del campionato già 12 gol per lei in 13 gare va in vantaggio ma arriva la beffa un po' come era successo a Cesena il Cittadella pareggia al 93 con Casarotto quindi come il Como è innesimo pareggio anche per la Lazio davvero tantissimi pareggi per la Lazio quest'anno 7 come il Brescia e sono tanti punti per la Lazio perché magari per un Brescia a volte può essere un punto conquistato penso contro la Roma nella capitale che stava a perdere una 0 è arrivato il gol di Braida al 94 per il pareggio per la Lazio spesso e volentieri sono due punti persi soprattutto in alcune circostanze come in questa una trasferta di Cittadella ma come nella gara contro il Ponte Dera partite che una squadra come la Lazio deve assolutamente vincere se vuole puntare alla promozione essendo la grande favorita adesso vedremo un po' pian pianino comunque Morace infonderà il suo gioco nella squadra comunque adesso è ancora presto per vedere la Lazio di Carolina Morace però è un 1-1 che non ci vuoleva certo sono ancora due le gare da recuperare per le Bianco Celesti però sempre dire devo recuperare devo recuperare nel frattempo però pareggiano 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 infatti questo momento la Lazio è sia meno 4 dal Como quindi non lontanissime però bisogna vedere anche le altre squadre non esiste solo il Como non c'è solo il Pomigliano Capolista ma c'è anche un Ravenna il Tavagnacco il Tavagnacco il Cesena comunque adesso ha perso qualche partita ma è un attimo che appunto come era successo nel caso del Ravenna è un attimo che se si azzeccano due o tre partite di fila si torna in piena corsa per la promozione quindi una Serie B bellissima tutta da seguire con in questo momento probabilmente sei squadre messe meglio delle altre per la promozione quindi Pomigliano Como Ravenna Tavagnacco Lazio Cesena con un Cittadella un Brescia che vogliono un po' fare le Outsiders poi ci sono probabilmente Eurobica Vicenza Chievo può ottenere Roma e Perugia che cercheranno di ottenere la salvezza prima possibile anche se il Chievo come ho già detto ha una rosa molto importante adesso è arrivata anche Michele Ardito in panchina potrebbe puntare a fare una cavalcata per provare almeno a rendersi protagonista in maniera positiva di questa stagione di questo campionato insomma questo era un po' un punto sulla Serie B dopo la quindicesima giornata adesso settimana prossima non ci sarà il campionato ma ci sarà qualche recupero qualche recupero ci giocherà il Vicenza il Cittadella insomma non partite particolarmente interessanti per la chiave promozione più verso la zona salvezza quindi vedremo dobbiamo aspettare due settimane per la sedicesima giornata che si giocherà appunto il il 21 febbraio domenica 21 febbraio appunto ci sarà Brescia Tavagnacco già citata ci sarà un interessantissimo Cesena Chievo una sfida salvezza tra Vicenza e Cittadella che sono due squadre davvero belle da vedere la Lazio dovrà tornare a vincere sfidando il Perugio ultimo in classifica e qui la Lazio deve assolutamente riprendere la cavalcata mentre il Perugio appunto bisogna comunque stare attento perché ha già pareggiato con il Como l'Orobica ospiterà il Ravenna partita molto interessante speriamo di riuscire magari anche andarla a vedere dal vivo il Pomigliano Capolissa ospiterà la Roma calcio femminile mentre infine il Como ospiterà il Ponte d'Era come un po' stesso discorso della Lazio deve assolutamente tornare a vincere a fare tanti punti se vuole se è un serio puntare alla Serie A e il Ponte d'Era che comunque è una squadra in questo momento in zona rossa può essere sempre la occasione giusta anche perché si gioca in casa però Ponte d'Era non va assolutamente sotto il votato Anzi è una bellissima squadra e ha già pareggiato per esempio anche con la Lazio qualche settimana fa quindi si sfide magari sulla carta abbordabili per Lazio-Gomo contro Perugia Ponte d'Era ma occhio perché in questo momento in Serie B non ci sono squadre materasso sono tutte squadre impegnative da affrontare e quindi mai perdere la concentrazione insomma questo era un po' il punto di Cartina Rosa e di Mattia Del Giudice sulla Serie B femminile io vi invito a scrivervi al nostro canale YouTube a seguirci su tutti i nostri a seguire tutti i nostri podcast Spotify Google Podcast Anchor siamo un po' ovunque anche sulle nostre pagine social ma soprattutto è uscito il nostro gazzettino online come ogni lunedì il nostro gazzettino interamente dedicato al calcio femminile che potete scaricare tranquillamente dal nostro sito www.cartinorosa punto it